Operazione della Guardia di Finanza di Pescara, denominata Drug Market a Montesilvano, scoperto nel weekend un deposito di marijuana in casa. È stato arrestato il trafficante ed è stata sequestrata la droga per mezzo milione di euro marijuana da destinare alla piazza del Pescarese. Tutti i particolari dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, il colonnello Antonio Caputo. Nel fine settimana appena trascorso, i finanzieri di Pescara hanno portato a termine un'importante operazione antidroga. È l'operazione Drug Market. A Montesilvano i nostri, grazie alla loro capacità investigativa, hanno scoperto una casa adibita a deposito di marijuana. Abbiamo scoperto 45 kg di marijuana che avrebbe fruttato sul mercato quasi mezzo milione di euro e avrebbe permesso di confezionare più di 130.000 spinelli. Naturalmente sono scattate le manette per il trafficante che tra l'altro è risultato anche percettore del reddito di cittadinanza, naturalmente in modo indebito. Ed è stato subito revocato questo sussidio. Le indagini proseguono senza sosta per ricostruire l'intera filiera della droga, in modo da intercettare e interrompere questo flusso di marijuana verso la piazza Pescarese. Quest'operazione è l'ultimo esempio del nostro presidio costante sul territorio, a fianco ai cittadini, per garantire la loro sicurezza e garantire la salute dei nostri figli.